E' tornata al suo antico splendore la Maria in Soile di Piazza Madonna Bolzano, la colonna Corinzia con la statua dell'Immacolata in marmo bianco, realizzata nel 1909 dallo scultore Andreas Compacher, un'opera legata ad un periodo difficile per la città di Bolzano. C'era bisogno, come c'è bisogno di manutenzione, questo è importante per il quartiere ma per la città intera perché dal 1836 quando c'è stata un'epidemia di colera qui a Bolzano e nei dintorni ci sono stati più di 1000 malati di colera di cui 100 sono morti e quindi la popolazione di Bolzano ha detto quando finisce l'epidemia ringrazieremo la Madonna e reggeremo questo monumento a ricordo della sua bontà. L'intervento di restauro si era reso necessario per ripulire i marmi del basamento dai vari imbrattamenti sia derivanti dagli agenti atmosferici sia da atti vandalici ma anche per rimuovere la patina di smog per risistemare gli elementi di marmo danneggiati e per rifare le stuccature dei vari elementi. È un momento storico e importante per la città perché ricordiamo un momento non felice di Bolzano nel 1835 abbiamo avuto la colera e in questo ambito i nostri nonni e bisnonni hanno detto se riusciamo a sopravvivere a questa malattia facciamo qua un bel monumento. Il monumento l'hanno fatto poi 74 anni dopo e si vede anche che anche lì la politica non aveva sempre una marcia in più e noi quest'anno dopo 110 anni l'abbiamo risanato in modo adeguato e di nuovo questo marmo bianco splende ed è bello ed è per questa piazza un bellissimo monumento. Nel corso dei lavori è stato poi necessario installare una cerchiatura della base della colonna per arrestare lo sviluppo di una serie di microfessure. I lavori erano lavori abbastanza delicati perché si trattava di andare a fare un risanamento e una pulizia di una struttura in marmo che è sotto tutela e tutti gli interventi sono stati concordati preventivamente approvati poi seguiti anche nel corso dei lavori direttamente dalla sovrintendenza beni culturali della provincia. L'intervento di restauro è costato poco meno di 60.000 euro. I lavori sono durati tre mesi.